Sprendita giornata, siamo super motivati noi del team Enit e tra l'altro oggi c'è un bel arrivo in salita, una salita di 12 km, sega di ala, molto impegnativa e dura mi dicono, dunque speriamo di poter far bene, abbiamo una prova speciale e la media sarà di 31,4, dunque in questa prova speciale dobbiamo rimanere tutti molto uniti, sapete benissimo che il giro E non è una competizione proprio vera vera, però ci sono queste prove speciali che sono fondamentali, dobbiamo farle bene, per accumulare punti che poi ci servono per la classifica, dunque ci sono tutti i requisiti con questa bellissima giornata per poter far bene, speriamo, seguitici! Grazie a tutti!